Sono più di due mesi che 18 pescatori italiani della marineria di Mazzara del Vallo sono tenuti prigionieri in Libia dal signor Attano. Questo è inaccettabile. Abbiamo chiesto al governo italiano di mobilitarsi, ma evidentemente il peso politico di Di Maglio e di questo governo è pari a zero. Allora con una interrogazione che ho firmato insieme al collega Milazzo abbiamo chiesto all'alto rappresentante dell'Unione Europea Giuseppe Borrell di intervenire lui, ma pare che non sia stato fatto granché da parte anche dell'alto rappresentante dell'Unione Europea. Questo è gravissimo. Io insisto perché l'Europa si mobiliti per ridare alle proprie famiglie 18 lavoratori europei che sono ingiustamente tenuti prigionieri in Libia.